La sua posizione in tema vaccino e green pass è piuttosto netta. Lei paradossalmente, se fosse possibile ovviamente sorpassare l'ostacolo della privacy, vorrebbe anche conoscere tra i suoi dipendenti chi è vaccinato e chi no? Sì, ma vorrei conoscerlo, ma non per curiosità o perché comunque non importa qualcosa sapere chi ha una scelta e chi ha un'altra, come uno può essere cattolico e uno no. Non è un problema o di colore o di religione. Il problema è solamente per cercare, come datore di lavoro, ovviamente se succede qualcosa oggi dentro la mia azienda e qualcuno si fa male, io sono responsabile civile e penale. A momento in cui la persona entra dentro l'azienda e non mi dice che, o non posso sapere che non è vaccinato e gli altri sono vaccinati, io discrimino entrambi, discrimino chi ha scelto di non vaccinarsi perché comunque mi devo allineare a quelle sono le condizioni di non vaccinato, quindi stare attento, come si diceva prima, alle varianti, stare attento ai tamponi, stare attento al fatto di qualsiasi minimo problema, come è successo nell'ultimo anno, che comunque è stato veramente pesante. Mentre invece se ci avessi l'80% dei vaccinati, io so che i vaccinati possono stare anche un po' più in libertà, anche perché sono vaccinati, quindi non vedo un motivo di stress e devono avere sempre tutti i giorni tutte queste mascherine, queste cose lavorate, che comunque oggi porta ovviamente dei disagi. Quindi sono per la totale libertà personale, però sono anche al di là ovviamente del mio personale impegno a far sì che la gente si vaccini e si vaccini tutta, perché ripeto, nel mondo sarebbe qualche miliardo meno perché sarebbe morti di vaiolo o di qualsiasi altra forma, c'è stato in colera, si parla addirittura che è stato obbligato, tra i 1900 e il rotto è stato messo come obbligatorio, perché comunque stavano numerando una grande quantità di persone. E questo poi è anche un problema, se si vuole, di costo sociale, no? Perché io dico, guarda, io ti vaccino, non voglio niente perché sei vaccinato, te una volta vaccinato non spendi niente nel vaccinarti e hai la condizione di poter andare a evitare l'ospedale anche se ti ripassi il virus. Questo più o meno potrebbe essere così. Però nonostante questo, che è la mia insistenza, perché la vedo giusta, però può essere anche sbagliata, il rispetto alla libertà degli altri, però nella libertà degli altri vorrei che fossero anche liberi chi si è vaccinato di avere due forme organizzative diverse all'interno dell'azienda e porti lo stesso obiettivo che è lo sviluppo dell'azienda stessa. Nel quadro della Toscana, come va questo motore della Toscana del Sud? Io sono convinto, si vede già i risultati, il suo rezzo, si vede già anche la parte di ora, per l'altra sera c'è una ripartenza, c'è un movimento di mercato, c'è un movimento di mercato sulle meccanee, sulla moda un po' più lento attualmente, però già comunque si rimuove qualcosa anche sulla moda. Quindi io sono estremamente fiducioso e stimolo, e in confidenza della Toscana del Sud si lavora su questo, per cercare di far capire, perché io credo da qui a dieci anni, ci saranno tanti imprenditori nuovi, con tante tecnologie nuove, con tanti metodi di sviluppo nuovi e di lavoro nuovo, che oggi, quelli che noi siamo, magari non si conoscono nemmeno. Io sono fiducioso nel fatto che si possa riprendere e ci sia anche imprenditoria nuova e porta questo nostro territorio nel futuro. Grazie a tutti.